Un saluto dal Tg della mobilità, da oggi in zona Testaccio dalle 7 alla conclusione dell'intervento riprendono le potature in via Galvani con la chiusura al traffico tra via Franklin e via Zabbaglia. Saranno così deviate sei linee in transito nella zona, disattivate tre fermate in via Galvani, due su Lungotevere Testaccio e una fermata rispettivamente in via Manuzio, via Franklin, piazza dell'Emporio e via Branca. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.